Buon pomeriggio, siamo qua, Elisabetta Tagliati e Roberta Vittorio, e presentiamo i nostri libri, il primo crescente, un volontario. Allora, qui ha scritto, che ha fatto la sua recente pubblicazione, Paesaggi da ridare, e immaginiamo di leggere un calendario che rappresenta un po' un itinerario culturale, poetico, musicale, perché Gio scrive poesie, scriverà poesie, ma è soprattutto un musicista, come anche Betti, poi ci dà qualcosa anche lei, e quindi raccontaci un po' di come è nato, perché è un'iniziativa che è nata sui social. Sì, in realtà è stato ideato, diciamo, nel 2021, nel luglio del 2021, il primo post, infatti, nella pagina è datato luglio del 2021, in cui, praticamente, un po' per il discorso pandemia, un po' per problemi personali e altre cose, il mondo mi sembrava, più del normale, più del solito, un posto un po' difficile da abitare, e quindi mi sono reso conto, sentendo, ascoltando, comunque siccome la musica ovviamente è praticamente parte integrante della mia vita, ascoltando certe melodie, ascoltando certe cose, e mi sono reso conto che certe manifestazioni artistiche creano dei mondi molto più belli da abitare, e quindi nel momento in cui, diciamo, sei nella bolla, infatti uno dei post parla appunto di questo, nel momento in cui sei nella bolla o suoni o ascolti, comunque ti estrai, ti estranei dal mondo, e automaticamente crei una situazione, un paesaggio proprio più bello da abitare. E quindi mi è venuta in mente questa cosa, tramite, fra l'altro, il primo post è stato un brano dei Miserabili, che si indica la Bring in Home, cioè Portalo a casa, e da qua mi è venuto in mente che sarebbe bello appunto che in qualche modo queste cose qua, raccogliendole, diciamo, uno per uno al giorno, uno al giorno per un anno, si riuscisse a tornare a casa, a tornare a quel luogo dove tutti sembriamo essere strappati in qualche maniera, e che queste cose ci possano aiutare a recuperare, insomma. Quindi, tramite piccole presentazioni, piccoli commenti, diciamo, anche impressioni, se volete, anche un po' poetiche in certi casi, e un QR code alla fine di ogni pagina, si può praticamente entrare in tre dimensioni in questi paesaggi e viverli almeno per qualche minuto, uno per ogni giorno dell'anno. Grazie. 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 Vogliamo anche presentare i personaggi che appunto rappresenta un po' la tua prima prescrizione, sono poesie e racconti, in cui comunque la tua musicalità si sente fortemente, perché anche nella poesia sentiamo questa fluidità anche nella parola, assolutamente non hai in ghibi con le parole, perché comunque segui la tua ritmica interiore, e però nel frattempo segui anche una scansione interiore molto forte, tu comunque sai il mondo intorno, e lo hai tuo, quindi insomma, se vuoi ripararci un attimino. Sì, praticamente risonanze, anche questo deriva da una suggestione poetica, nel senso che in musica appunto, se due note sono intonate, due corde, lo diceva anche Kibran, se due corde sono intonate nella stessa maniera, toccandone una risuona anche l'altra, vibra anche l'altra, proprio per un discorso di acustica. Quindi in questo caso le risonanze sono quelle coincidenze, sono quelle brecce, diciamo nel reale, che ci spalancano un po' come appunto i paesaggi, ci spalancano comunque delle comunanze, delle situazioni che per simpatia insomma riconosciamo comuni, possono essere anche coincidenze, infatti la quarta ricopertina dice le risonanze sono l'autografo di Dio quando vuole rimanere in incognito, sono quelle vibrazioni che si rincorrono fra loro, che non sappiamo capire, ma che ci guidano l'anima quando meno ce lo aspettiamo, sono le brecce in quella che chiamiamo realtà, e che si affacciano su un mondo parallelo, intriso di sensazioni, di cui tutti abbiamo misteriose esperienze. Diciamo che il primo racconto di questo libro si chiama Rissonanze proprio perché il protagonista vive un'esperienza quasi estracorporale e ritrova in questo limbo diciamo un po' magico delle cose che però accadranno subito dopo nel momento in cui ritorna diciamo ad essere vivo e reale nel mondo, quindi l'idea è un po' quella. Le poesie diciamo che vivono in queste cose, gli racconti sicuramente per un certo aspetto. Le poesie a maggior ragione perché tramite il sonoro, tramite la cadenza, tramite la rima, tramite comunque il fonosimbolismo delle parole e tutto il resto, sicuramente creano delle sensazioni al di là della letteratura. Questo è quanto. Aggiungo soltanto una cosa per quanto riguarda questo, è stato comunque pubblicato in self e sotto diciamo il marchio Animamente Corpo di una autrice in questo caso assente ma che però ritroveremo lunedì nella diretta con Scambio Volmente che si chiama Maria Teresa Rotola e che comunque appunto sta raggruppando diciamo scrittori con tematiche affini sotto questo marchio. Quindi ci ritroveremo. Poi adesso presento Elisabetta Tagliati che oltre ad essere musicista anche lei, cantante in questo caso, lirica, leggera e chi più neanche io non metta, è scritto un bellissimo libro che si chiama Oltre la Brizio di cui adesso Cini ci parla. A me Oltre la Brizio è il suo nome, diciamo, da già un po' l'idea, si parla di un abisso che è una grande metafora e in realtà come tutti possiamo immaginare di quello che è dentro di noi però all'interno di queste storie invitati in epoca celtica, l'abisso è anche veramente un dirupo attraverso il quale si può svolgere un salto rituale. Perciò i miei personaggi attraverso questa esperienza valcano l'abisso ma in realtà ciò che succede è entrare sempre di più dentro se stessi. Perciò è un libro che invita molto alla ricerca, al conoscere stesso e è invitato in epoca celtica ma a mio parere trascende abbastanza le epoche perché parla di amore che non è amore tra due persone ma è forse più che amore e passione ne parlavamo anche prima a tavola infatti è proprio la prima frase del libro vivere senza passione è come morire ma più lentamente perciò è proprio un richiamo a vivere davvero i miei personaggi non sono mai particolarmente buoni o perfetti proprio perché vivono davvero e perciò siamo fallaci io amo scrivere dei libri che reputo scomodi non sconvenienti però un po' sull'orlo dell'abisso perciò io penso che per quanto mi riguarda quando decido di scrivere è perché voglio dire qualcosa che spesso è spiacevole da accettare diciamo di scardinare un po' perciò è una lettura che ha incontrato abbastanza insomma ottimi review tecnici o comunque però il lettore insomma dalla lettura della spiaggia magari potrebbe non essere proprio felicissimo se gli capitasse una cosa del genere da leggere e questo è dentro l'abisso c'è anche uno spettacolo musicale in opera rock con cui ho tartassato molti di voi perché penso che sia una delle chiamate della mia vita solo che purtroppo come tante altre chiamate della mia vita non voglio di che tanta fortuna però insomma ci stiamo provando e con Gio tra l'altro approfitto per dire che suoniamo davvero insieme abbiamo un duo siamo attivissimi ci chiamiamo i Cose Memories abbiamo vinto da premi di musica da camera fino a facciamo pop in questo momento con le sonore di film horror e se qualche autore ha bisogno di musica anche durante le proprie presentazioni noi abbiamo una macchina un pianoforte da mettere in macchina di pianto voce e possiamo anche venire solo in veste di musicisti o artisti di qualsiasi genere perché ormai Greg siamo abbastanza trasversali chiamata fortunatamente pianosauro e il pianoforte perché è una roba che si è che pensa quanto fa però va bene Christian puoi organizzare un reading di lettura assolutamente eh sì no un piccolo appello su oltre l'avviso opera rock qui c'è il vice sindaco con noi di Vigoleno di comune di Vernasca scusa il comune di Vernasca mi chiamo Alberto tanto io ringrazio sono di essere presente questa presentazione che è andata un po' improvvisata ma comunque sia abbiamo un po' sta riuscendo comunque molto bene sta venendo molto bene complimenti a tutti eh lo dico in anticipo no un piccolo piccolo solo da parte mia e vetti con l'opera rock tu sei pronta se ci fosse qualche spazio teatrale spazio per erediti Vincenzo stesso è un regista di teatro spero di teatro quindi se ci fosse qualche idea da qualche spazio poi tutto il materiale da inviare siamo tra l'altro molto molto speciali in questo caso perché quest'estate siamo andati anche fino a Benevento in quel caso con pianoforte voce perciò posso presentare il libro e lo spettacolo solo con la mia voce e il compositore ma tutto lo spettacolo prevede ovviamente dalla scena musica dal vivo possiamo anche fare solo un concerto un concerto rock di 25 pezzi inediti in italiano abbiamo un contratto discografico presto di uscire al cd perciò diciamo il progetto è ben dileniato siamo in più di 10 se dobbiamo spostarci tutti perciò è molto impegnativo e per quello abbiamo bisogno dell'aiuto del cielo messaggio messaggio capito il contatto social giù ho la chiavetta ci sono dei bietti da visita lì sopra il tavolo che vi posso lasciare tranquillamente e i curiosi sono a pendrive con i pezzi dell'opera rock quindi i curiosi fanno anche musica storica è appunto che sono considerato l'ambientazione buono sapersi grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille ha fatto anche delle conferenze ha fatto anche delle conferenze come parlato della parte più immaginitica lui invece stava proprio sul pezzo anche lui avrebbe voluto essere qua ma oggi è impegnato in un altro evento più facendo questo libro invece è scritto in periodo di pandemia è un romanzo distopico mentre l'altro è un romanzo fantasy io ufficialmente dichiaro mirico perché la trascrizione di un sogno è durato due mesi perciò tutti questi simbolismi eccetera parte anche del titolo a mio parere sono molto legati al mondo mirico e parlano un linguaggio appunto un po' diverso da quello del fantasy il dissidenti è un romanzo distopico invece è un romanzo abbastanza arrabbiato è critica abbastanza il sistema è la didattica della musica è tutto quello che riguarda il mondo insomma dell'arte di questi tempi perché la bellezza credo che molti di noi siamo sensibili all'argomento è particolarmente screditata e purtroppo non gode di molta fortuna ultimamente perciò diciamo in questo libro ci sono un po' di invettive un po' di... un po' un richiamo anche agli artisti a dire unire sotto la bandiera per reclamare il diritto della bellezza che tutti hanno non solo le persone che hanno la fortuna magari di sentirlo già perché penso che per tutti sarebbe un miglioramento come i paesaggi come tante altre cose il contatto con l'arte è qualcosa che serve a noi e a chi se non ce l'ha o se per sfortuna non è stata ancora toccata da questa fiamma chi ne è toccato secondo me è il dovere morale di farlo perciò in periodi di pandemia a maggior ragione avevamo tutti gli anni un po' tarpate e la volontà era proprio di dire non lasciamoci insomma chiudere troviamo una soluzione troviamo un modo di combattere perciò molto combattivo ora passo a Roberta De Tomi che è veramente una bomba infatti è difficilissimo per me presentarla e lo faccio tra l'altro molto con il grande onore perché lei è una scrittrice secondo me insomma vera e lei lo fa di professione è una ghost writer tra l'altro ha un blog da moltissimo tempo perciò si è anche media partner tipo di CSU insomma è veramente inserita nel mondo della scrittura e in tutto insomma il mondo letterario a 360 gradi che occupa anche di scelteggiature tra l'altro ha fatto dei percorsi anche lei stessa insegna scrittura o comunque scrittura creativa però lei stessa ha seguito corsi anche di un certo livello che secondo me insomma le hanno dato una professionalità e una capacità di approcciarsi veramente a ogni genere cioè perché qui vedete due libri ma in realtà cioè avesse portato tutto saremmo arrivati con altro che valigie perciò è difficilissimo presentarti perché c'è un mondo insomma dietro di lei e scrivete su commissione appunto perciò oltre magari noi che diciamo che scriviamo per la scintilla lei no cioè riesce veramente a sviscerare qualcosa anche cioè su richiesta e molto spesso arriva veramente al punto io l'ho conosciuta con due libri che sono due riletture di favole del passato Alice nel Paese delle Veraviglie che non è qui e questo che invece è nuovo uscito che è la rilettura della Sirenetta in chiave in chiave moderna poi dopo entrerai insomma urban fantasy Alissa tra l'altro ambientato in Italia che c'era bellissima Senigallia tra l'altro Roberta con curiosità un po' rispetto a tutti noi anche lei è molto legata al mondo della musica nel senso che i suoi libri raramente non hanno delle citazioni delle canzoni dei testi anche Alissa per esempio è piena di canzoni di melodie perciò in un certo senso ci siamo risuoniamo su questa cosa al conto anche tra quella d'ardeggia che invece per esempio è tutto altro genere tra l'altro saga edizioni perciò comunque lei lavora con tanti editori diversi insomma poi ci dirai tu nel dettaglio allora parto con Alissa che è un progetto che avrei voluto sempre scrivere perché innanzitutto io amo tantissimo le fiabe e il mio primo retelling è stato appunto Alice Nalbinto meglio seguito di Alice nelle case meraviglie che ne ha portato anche a studiare la figura di Carol e a scrivere dei saggi in lingua inglese dedicati proprio a questo autore che è un grandissimo autore un po' sottovalutato e vi dirò di più Alice nelle case meraviglie lo conoscevo tantissimo per le persone disegniane ma in realtà non è stato letto così tanto ed è poco conosciuto e direi anche poco capito Carol è stato però un grandissimo influencer adesso mi sono un attimo soffermata sul libro che non c'è perché è stato un buon punto di partenza di questo percorso dedicato alle fiabe a partire proprio dalla mia grande passione io ho uno zio libraio uno zio libraio che ovviamente da piccola mi riempiva di regali e mi ha proprio appassionata perché anche lui voleva scrivere però poi è finito a vendere i libri comunque sempre una grande passione ed è diciamo un bel onere un bel onore vendere i libri e sappiamo tutti con anche il discorso indipendente quanto è difficile insomma approdare a nuovi libri o comunque creare delle alternative però ci vuole coraggio ci vuole anche coraggio a proporre delle cose nuove un po' oltre i mestri io in realtà ho scritto anche per i ritorni un po' più grandi diciamo pure su commissione quindi novelle di tipo sentimentale e ho scritto anche sotto diciamo pure falso nome però comunque sono poi tornata a questo grande amore che è appunto la fiaba e il retelling e Alissa è un urban fantasy quindi un fantasy in chiave contemporanea in un'ambientazione urbana lo ambienta a Senigallia per una ragione ben precisa perché comunque c'è una sirenetta anche a Senigallia che in realtà è una penelope che guarda e spera nel ritorno dell'amato guarda che mi verso il mare e ho trovato una similitudine con la serenità di Copenagher ho amato molto Senigallia infatti quando sono stato in vacanza ho scattato dalla scintina poi dopo è passato un po' di tempo nel frattempo ho ricevuto il soccorso e ho proposto allo stesso editore da roba editore e di poter lavorare su questo romanzo il seguito della sirenetta di Anderson che sappiamo tutti è una fiamma molto dolorosa che è una fiamma che parla dell'identità quando è difficile essere nel proprio corpo essere in un corpo che non sentiamo nostro e quindi c'è un discorso anche molto più profondo che va oltre la storia dell'amore in un certo senso la domanda è che cosa siamo disposti a fare per amore ma anche per noi stessi perché a volte noi non ci sentiamo completamente per noi e quindi questo romanzo ha l'aspetto appunto dell'avventura cioè la parte romantica c'è una continuazione della storia c'è anche un contesto sociale che interessa i giovanissimi comunque tutti gli stessi sono adolescenti però c'è anche quella serie di domande che ci poniamo inevitabilmente come persone come esseri umani che alla fine quando ci guardiamo allo specchio ci facciamo appunto un po' le nostre non sono pure tale cominciamo a dire ma sono io? sono io un po' un dilemma ci espiriamo a volte ci chiediamo chi siamo se siamo veramente giusti e quindi si apre un po' al discorso dell'introspezione ribadisco appunto che c'è l'avventura c'è uno sviluppo della storia che riprende proprio da quando la serenetta si è sciolta diventando spuma di mare però insomma il salto in avanti ci troviamo nella nostra Senigallia e appunto avviene qualcosa di particolare di speciale quindi l'avventura continua c'è una strega del mare che non è l'usula di spiare tra io ho voluto creare un riferimento a questa strega con un passato e con appunto dei riferimenti mitologici molto forti non ci vuole assolutamente essere un intento polemico come invece ha creato Disney perché comunque parlando anche di letteratura come diceva Vincenzo parliamo anche di architipi letterali quindi questi grandi temi che interessano noi esseri umani quindi un po' la serie di questo non mi fermo qua perché altrimenti parlerei troppo passo a la parola che è completamente diverso perché è un thriller che ho avuto il sito un po' di anni fa poi l'ho riproposto in versione digitale quando è lo Sdigital e nel 2020 o spesso nel 2021 è stato proposto in cartaceo da Saga Edizioni qui c'è un tema completamente diverso perché è vero che le protagoniste sono femminili eventualmente c'è il tema della libertà il tema dell'identità ma abbiamo un mistero su cui appunto siamo chiamati indagare la mia grande ispirazione è stata David Lynch infatti ho scritto questo romanzo in parte ascoltando la colonna di Twin Peaks è tutto più orientico proprio e da lì appunto così si è svolto questo grande film che poi è diventato questo romanzo con una protagonista dal passato tutto da sondare il libro di Armanesse sull'amore che diventa un po' il filo conduttore perché è anche un romanzo sull'amore mi fermo qua però la musica mi piace molto e quando posso ne inserisco ho anche studiato qualcosa cerco sempre di approfondire e insomma sono molto contenta di aver conosciuto Joe Elisabetta mi ispirano grazie 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 grazie